I gradini di casa Ci sono giorni in cui starei per ore seduta su quei gradini di casa, testimoni del nostro vissuto, scrigno di sogni, di aspettative, il nostro diario comune. Quei gradini, ora deserti, alberga solo un silenzio assordante. In quel silenzio rivivo attimi di vita passata. Rivedo gli amici di un tempo, quante emozioni, quanti sogni condivisi e discussi. Ogni sera il solito rito, raccontare le nostre esperienze, viaggiare in un mondo fatato, sognare un futuro migliore. Parlavamo con gli occhi, confidavamo ansie e timori, dissolti dagli abbracci donati. Mondo fantastico, mondo d'amore. Ci univa l'unica sigaretta, i nostri ideali, la lotta condivisa, lo sciopero organizzato, la voglia di cambiare il mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.